restare in casa è uno sforzo per tutti ma c'è una categoria di persone per le quali interrompere la quotidianità può procurare forti traumi è il caso dei giovani affetti d'autismo il comune di rimini prima in regione ha avviato un progetto dal titolo spazi sicuri all'aperto che prevede l'accesso ad un'area verde della città ai ragazzi e ai loro genitori rigorosamente un nucleo familiare per volta per evitare assembramenti avere questi spazi a disposizione che cosa rappresenta per voi a lui quando è all'aria aperta si esprime più espressioni rispetto a che stare in casa il giardino individuato è quello conosciuto come campo di don pippo nella prima campagna riminese un'area privata dato il divieto in vigore di accesso ai parchi pubblici l'iniziativa è stata presa in mano dal comune dopo le tante richieste di sostegno arrivate dalle famiglie e la proposta è stata in seguito condivisa dalla prefettura crediamo sia una piccola forma di aiuto per quelle mamme e papà per i quali l'ansia dal coronavirus è amplificata dalla preoccupazione per i disturbi comportamentari dei propri figli che vivono con doppia sofferenza questo periodo ha detto la vice sindaca gloria l'easy che ha curato il progetto